Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B Square Gaming, siamo sempre su Fallout, stiamo costruendo il nostro simpaticissimo personaggio dopo aver dato prova di quanto siamo deboli nei confronti dei robottoni. C'è un sacco di roba da fare, quindi mi raccomando cerchiamo di esplorare questo paese e speriamo di esplorarlo nel più breve tempo possibile. Abbiamo un po' di soldi, cercheremo di spenderli, magari di cambiarci questi vestiti un po' da frufru, vediamo un po' il talk. Allora, ci ho detto che ha della roba in vendita, tra cui i caps, i proiettili di pistola. Allora, vediamo quelli un po' sfarlocchi. Allora, vediamo un pochettino che cos'ha, Michelin, Amos, Cell, Weapons, è la Weapons per esempio che potrebbe esserci utile, però abbiamo ancora la pistola, tipo quella, tra l'altro c'è la pistola silenziata che può essere assolutamente comoda, e un'armatura che però viene 70, quindi direi che per il momento me ne andrò. Comunque lui ha detto, so che ti teneva il dottore, bla bla bla, e chiediamoli se sa qualcosa della gente che ci ha attaccato. Quindi ha detto che sta con i Khans, i Khans di solito stanno in un altro posto, vabbè, comunque, chi se ne frega. Sei mai stato a New Vegas? Twice, bad times. Quindi ha perso, ha giocato e ha perso. Ok, quindi ha detto non facciamo casino e se visita quel posto le... Vediamo se ci può dire qualche cos'altro sul Khans. A posto così. Vediamo se possiamo dire niente. And take it easy. Bene, a posto così. Open. Ok, tra l'altro questa ambientazione a me piace un casino. Il Moave è veramente bello, non so se ci siete stati. Queste sono le moto che tanto ormai non funzionano più. Vediamo nel saloon dove ci avevano consigliato di andare. Il tipo ci aveva consigliato di andare nel saloon. Questo è un GDR, ragazzi, non sto a ripetermi. Oh, eccoci qua. Mi puoi insegnare come sopravvivere nel deserto? Questa qui è però più figa del personaggio che mi so fatto io. Vabbè, pazienza. Quindi, adesso la stiamo inseguendo. Lei ci insegnerà qualche bel trucchetto... ...per sopravvivere. Vediamo cosa ci insegnerà la nostra abilissima. Allora, potete, come vedete, potete dormire. Ora io non mi ricordo niente dei... ...a dire la verità di tutti i comandi. Quindi ho detto di andare dietro il saloon. Eccoci qua. Ok, quindi ci dice spara le bottiglie perché... Minchia, se trema. Oh, ce la facciamo? Vedete la bellezza di non avere un mouse. Minchia, è secco. Quindi se stiamo... ...se ci abbassiamo abbiamo più stabilità. Eh, questo è il principio. Ma non credo che tu vieni a me per imparare a combattere le bottiglie di Sarsaparilla. Ti dico cosa. Ho bisogno di guadagnare le geckos dal mio acqua di acqua. I nostri criti sono attaccati. Perché non ti vieni? Dai. Sì. Dobbiamo seguirla, che così... ...con questi animali qua. Non ho capito che cazzo sono. Non ho capito perché non corriamo. Però siamo lei. Potete anche giocare in terza persona, in prima persona. Questo bello di Fallout. Adesso devo imparare... ...devo ricordarmi come si usa il Peep Voice, che è fondamentale. Tra l'altro la mappa è veramente... ...grande. Io non so se adesso riesco a farvela vedere. Esatto. Questo è il Peep Voice, che vi dice un po' com'è la corazza... ...e un po' quello che avete nello zaino. tra cui potete... ...vabbè, usiamo il Rifle, per il momento il fucile. Ci avete la radio e avete anche... mi sembra di ricordare da qualche parte che ci fosse anche la mappa, però io qui per il momento non la vedo. È qui, ecco sì. Ecco qua. Local map. Ora, voi non potete vedere al momento, insomma, è un po' difficile, però è una mappa parecchio... ...cioè era grande, era un'innovazione all'epoca, era una mappa enorme. Vabbè che è tutto deserto, però... ...molto bello. Allora, io non so se voi avete mai giocato Fallout, io ho giocato sia al 3 che a New Vegas... ...non ho giocato con lì prima, devo essere onesto. Il 3 era spettacolare, perché praticamente eravate nella zona di Washington, se non ricordo male. Partivate da bambina nel volto e poi uscivate. Qui invece la storia è un pochettino più farlocca, quindi... ...cioè non vi aspettate una grande storia, però secondo me l'ambientazione... ...e un po' lo stile di gioco. Abbiamo alcuni gioco che si riusciranno. Un po' di piccoli monstri, è quello che sono. Sembra che Doc Mitchell tratta più gioco di gioco di più che altro. Vediamo se possiamo arrivare un po' più vicino. Se muoviamo tranquillamente, possiamo arrivare il gioco sull'euro. È più probabilmente di toccare qualcosa di importante in questo modo. Vabbè, ci dice stai manzo, perché... ...in questa maniera dovremmo prendere questi animali. Il dottore è... ...è un asso nel curare... ...allora, dovrebbero essere qua. Vedete, c'è la... ...la freccia. RB. Allora, quando entrate qua dentro, praticamente vi permette di fare una sorta di puntatore. Quindi non so se lo vedete, ma... Welcome to the Vault-Tec Assisted Targeting System. Cioè praticamente è quello che vi permette di assistere la mira. What's display the challenge... No, the change you will hit. The chance, scusa, you will hit. Quindi ti dà la probabilità con la quale tu prendi un punto. Along with the condition of each body part. Quindi... Con i tasti direzionali cambiate. Con RT praticamente attaccate il tuo target. Con B cancellate l'attacco. Con A accettate le azioni. Quindi insomma dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro. Allora, come vedete la probabilità è un po' bassina, ma perché è lontano. Quindi noi punteremo tutto al torso nella speranza di prenderlo. Quindi lo selezioniamo. E accettiamo. Eccolo un altro. Quindi basta selezionare anche questo e aspettare. Adesso sta venendo verso di noi. La probabilità è discesa, però come vedete la probabilità degli altri è aumentata. Allora ragazzi, se voi non usate il volt, perché io, sapete, da bravo nubo che sono, praticamente in passato... Search. Queste poi sono cose che si possono rivendere. Da bravo nubo del passato, praticamente, mi ricordo che io mi ero fatto tutto il gioco senza il volt, e il volt è... Il volt è che poi non è il volt, scusate, il sistema di mira assistita. E il sistema di mira assistita, giocare senza il sistema di mira assistita è praticamente impossibile. Vabbè, questo qui è un'esercitazione e ci sta. Dove è andata? Scusa la tipa, perché... Esatto, non me la ricordo già più. La grafica, ragazzi, è un po' datata, però a me piace parecchio. Cioè, io devo dire, era uno dei giochi che in quel periodo mi era piaciuto di più. Minchia, se... Ok. Allora, torso. Ok. No, no, il cane no, il cane no. Ecco, se no punti chica... Ma neanche lei? Ma ce la fai? A posto così. 44 direi anche... Anche questo giro di... Stavolta non mi è andato bene. 68 però è la probabilità. Ah, ho esaurito. Va bene lo stesso, guys. Sperando di prenderci... Io sono abituato a correre, scusate. Ogni tanto ho questa tendenza a pigiare i tasti di altri giochi. Perdonatemi, ma insomma, capita. Va bene, dai, adesso siamo a posto. Dovevo aver fatto tutto. Vediamo se la tipa ci dà un po' di soldi, come ce l'ha promesso. Che cazzo è andata la tipa? A posto così. Tra l'altro le armi si rovinano pure. Quindi state manzi. Perché rischiate veramente di... Di rimanere senza armi in mezzo al deserto. E tra l'altro questo deserto dovete sapere che non è come un comune deserto. Potete trovarci veramente le peggio bestie. Take armonica. Sì, sì, perché poi posso rivendere tutto, ragazzi. Ricordatevi che potete rivendere tutto. Forse devo semplicemente parlare con la tipa perché ho assunto che dovessi fare lo splendido, però a questo punto io non vedo che fluidità nei movimenti. Si vede che è un gioco un po' adattato. Però a me piacciono questi giochi, io vi assicuro sono belli da riprendere in mano. Vabbè, parliamo con la tipa. Now that was some good work. Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Couldn't have. All right, then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some Xanderoo and a Brock flower. Let me think now. I know I've seen Brock flowers growing up in the graveyard and I seem to remember they're being Xanderoo over by the schoolhouse. Bring those on back to me and we'll get cooking. Ok ragazzi, in verità, in tutta onestà, vi devo dire una cosa. Non so se vi può interessare questo tutorial, io devo un attimino riprendere la mano, ma è totalmente inutile ai fini della trama. Quindi penso che me lo farò io per i cazzi miei. Così, e tra l'altro mi sembrava anche di avere abbandonato un po' il gioco. Se non erro. Di non averlo fatto la prima volta che ci ho giocato. Semmi un scemo of me. Va bene ragazzi, a me non resta che davvero puntamento alla prossima. Mi raccomando, belli connessi e belli pagliacci.